La città di Palermo e il suo centro storico al centro di questo contratto interistituzionale di sviluppo oggi siglato assieme con i ministeri competenti, una conferma della volontà di continuare a riqualificare quello che negli anni 70-80 era il quartiere più periferico, più degradato, più pericoloso e desertificato della nostra città. Il centro, simbolo di marginalità e desertificazione, oggi sicuramente la situazione è profondamente cambiata e questi interventi, 91 milioni di interventi, costituiscono un importante contributo per recuperare tanti aspetti della vita del centro storico, 75 milioni saranno impegnati e spese dall'amministrazione comunale della città, riguarderanno la pavimentazione per collegare i diversi siti dei percorsi arabo-normanni, ma anche barocchi gotici e rinascimentari della città, ancora il recupero del convento della Sapienza in Piazza Magione, dell'istituto artigianale in Piazza Calza, il recupero di Palazzo Giallongo piuttosto che di Palazzo Marchesi ed ancora la gancia che è la bocca a storia, rivolte e rivoluzioni della nostra città, insieme con tanti interventi sullo spassimo e sul collegio San Rocco, che è destinato ad essere utilizzato in spirito di collaborazione dall'Università. Credo che sia una straordinaria occasione che, unita agli interventi della Regione per circa 11 milioni e agli interventi di un archivo di Stato per circa 5 milioni, varranno in qualche modo a confermare come si procede sulla strada di riqualificazione di quello che 30 anni fa, 40 anni fa, era il quartiere più periferico e più desertificato di Palermo.